È un bel casino vivere la quotidianità, un sacco di problemi, un sacco di questioni da risolvere. L'apertura fulminante di questo editoriale è di Matteo Renzi, giornalista. Matteo Renzi, il neo direttore del riformista, oltre che leader del partito personale Italia Viva, nonché conferenziere per il poco democratico principe saudita Bin Salman, nel tempo perso Maratonete, pilastro del cosiddetto terzo polo, che dovrebbe farsi partito unico per ora. Ma è stato anche caporedattore. Nella redazione di Caminiamo Insieme, il giornale degli scout a Gesci, si firmava a Zacchi in onore del personaggio biblico, quello digerico che salì su un albero di sicomoro per vedere l'uomo della Galilea Renzi, aveva capito già che l'arrampicata in senso figurato e stretta è la chiave per la svolta. Ci sono nel Renzi, Zac, caporedattore, tutti gli stilemi del politico imprenditore di se stesso. In un suo editoriale di gennaio del 2001, il giovane Matteo discetta di cuore e di mente, coltivando gli slogan che poi l'hanno fatto passare come rottamatore. Strana la storia della parola cuore, scriveva Renzi, oggi vanno di moda le frasine stile cioccolatini che invitano a seguire il cuore e ad assecondare il proprio istinto. Chissà se il cuore o la ragione l'hanno convinto ad abbandonare la politica come promesso dopo il referendum, o a stringere affari con un sultano che fa pezzi i giornalisti oppositori. Andiamo avanti. Tra le frasi ad effetto rubate a Kennedy, l'editorialista Renzi incita i suoi compagni scout a non arrendersi, passando da una poesia di Rodari che ha mai buongiorno. Davanti alle cose difficili ci si può arrendere oppure ci si può credere fino in fondo, scrive Renzi, sempre febbraio 2001. Parafrasando, scrive il noto opinionista Mike Bongiorno, o si lascia o si raddoppia. Che Mike Bongiorno fosse un opinionista, secondo il nostro capo redattore, dimostra una confusione già antica sull'autorevolezza che non è direttamente proporzionale alla popolarità. E la politica? 8 giugno 2001. L'ex giornalista e presidente della regione Lazio, Badaloni, tuonava contro l'Olanda per aver legalizzato prostituzione e matrimoni gay. E Zack Renzi, in ultima pagina, scriveva di scegliere la cultura della vita contro la cultura della morte. A proposito, a luglio di quell'anno, quando il mondo rimase sconvolto per la violenza delle nostre forze dell'ordine durante il G8 di Genova, tutti i giornali di tutto il mondo sottolineavano la carneficina del braccio armato del nostro governo. Zack Renzi no, ce l'aveva con i manifestanti pestati. Solo una cosa era davvero inimmaginabile in quel lontano 2001. Come ci potesse essere gente dentro il PD e fuori così spericolata da poter pensare che Renzi fosse, non dico di sinistra, bestemmia, ma lontanamente di centro-sinistra. Ci sono, negli articoli di Renzi, tutte le caratteristiche del reazionario smart fin da giovani.